Lo chiamo alla benedizione particolare di Dio, che il Signore vi dia gioia, serenità, visite le vostre famiglie e vi dia quelle grazie che più attendete. La potenza del Signore sia su di voi, la grazia del Signore sia dentro di voi, la presenza del Signore sia sempre con voi e vi accompagna nel vostro cammino. E su voi tutti invoco il nome di Gesù che è salvezza per la vostra guarigione. Amen. Per la vostra liberazione. Amen. Per la vostra consolazione. Amen. E vi benedico nel nome del Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.